È un provvedimento importante che contiene molte misure concrete che riguardano l'economia, le famiglie e quindi credo che sia una risposta positiva su un percorso che resta difficile. Mi auguro che quei sintomi di ripresa economica che sono stati evidenziati possano trovare conferma nei fatti. Ma il cammino è lungo, lento, faticoso, ma il provvedimento mette qualche mattone positivo per la costruzione di un edificio più salvo.